Il patarocca alvisano torna sul tetto d'Italia, la squadra giallonera conquista per la sesta volta nella sua storia il tricolore nel trofeo d'eccellenza. Vittoria netta e meritata, quella della formazione allenata da Massimo Brunello, capace di regolare i campioni in carica del Rovigo con il punteggio di 43-29. Grande festa per la squadra bassaiola del presidente Alessandro Vaccari, in grado di regalare sabato sera ai 5000 del Peroni Stadium una gioia incontenibile. Fiumi di sudore in campo per raggiungere il traguardo, fiumi di lacrime sul palco premiazioni dopo l'alzata al cielo del gruppo allenato da Brunello della Coppa dei Campioni, fiumi di birra nel terzo tempo con la festa incontenibile che ha unito vincitori e vinti come nello spirito e nel DNA di questo sport meraviglioso. La sfida dello stadio di Calvisano ha parlato di una finale combattuta soprattutto nella prima parte di gara. Avvio difficile per i bresciani con il Rovigo a passare addirittura in vantaggio per 12-0. Punteggio è arrivato a toccare anche 17 punti di vantaggio con tanto di preoccupazione per i tifosi gialloneri. Ma è qui che è emersa la forza ed il coraggio della squadra di Massimo Brunello. Sono stati i calci piazzati di Minozzi a suonare la carica per la rimonta dei padroni di casa. Le mete poi di Lucchin, Pazza e Chiesa hanno permesso al patroca al Visano di operare il sorpasso e raggiungere il tetto d'Italia. Al termine della contesa, come detto, il punteggio ha favorito i gialloneri con il 43-29 a far esplodere la festa meritata di una società, quella giallonera, capace di programmare il presente ed il futuro divenendo sempre più icona del rugby italiano.